Il tempo e la storia nel monoteismo giudaico e cristiano. Come l'esperienza di Abramo può essere considerata una nuova posizione religiosa dell'uomo nel cosmo, così, attraverso il profetismo e il messianismo, gli avvenimenti storici si rivelano nella coscienza delle élite israelitiche come una dimensione che non avevano fino allora posseduto. L'avvenimento storico diventa una teofania nella quale si svelano sia la volontà di Yahweh che i rapporti personali tra lui e il popolo che ha scelto. La stessa concezione, arricchita dell'elaborazione della cristologia, servirà di base alla filosofia della storia che il cristianesimo, a partire da Sant'Agostino, si sforza di costruire. perché i monoteismi si staccano, come abbiamo accennato nei precedenti video, da una concezione ciclica della storia. Entrano in una concezione lineare, dove c'è un inizio e una fine della storia. Quindi non è una storia che si ripete in continuazione, come nel caso della concezione ciclica. E questo concetto di storia lineare è quello che ovviamente ritroviamo anche nelle interpretazioni cristiane a partire da Sant'Agostino, che nel Decivitate Dei, nella città di Dio, ci parla di questo concetto lineare, o meglio, emerge la concezione del tempo lineare in maniera evidente più volte. Ma sia nel cristianesimo che nel giudaismo, la scoperta di questa nuova dimensione dell'esperienza religiosa, la fede, non comporta una modificazione radicale delle concezioni tradizionali. La fede è solamente resa possibile per ciascuno cristiano in particolare. La grande maggioranza delle popolazioni dette cristiane continua fino alla nostra epoca a preservarsi dalla storia, ignorandola e sopportandola, piuttosto che accordandole il significato di una teofania negativa o positiva. L'accettazione e la valorizzazione della storia da parte delle élite giudaiche non significano tuttavia che l'atteggiamento tradizionale venga superato. Le credenze messianiche in una rigenerazione finale del mondo denotano anch'esse un atteggiamento antistorico. Ecco, Mercea Lea aveva sottolineato come una concezione circolare, in fondo era un modo, soprattutto per le popolazioni arcaiche, di sfuggire dal peso del tempo e della storia, soprattutto dal divenire. E qui ci fa notare che l'atteggiamento sia dei cristiani sia dei giudei, e quindi che accettano la concezione lineare della storia, non cambia relativamente a una posizione antistorica, perché anche qui c'è un concetto di inizio dei tempi, inizio della storia, pensiamo all'Eden, al paradiso terrestre, e un concetto di fine della storia che sarà determinato dal ritorno di Cristo che restabilirà poi la Gerusalemme celeste, il paradiso. E questo è sempre un modo di sfuggire, in fondo, dalla storia e dal processo del divenire. Poiché non può più ignorare o abolire periodicamente la storia, l'ebreo la sopporta nella speranza che possa cessare definitivamente in un momento più o meno lontano. L'irreversibilità degli avvenimenti storici e del tempo viene compensata dalla limitazione della storia del tempo. Nell'orizzonte spirituale messianico la resistenza alla storia appare come più ferma che nell'orizzonte tradizionale degli archetipi e ripetizioni. Se in questo caso la storia era rifiutata, ignorata o abolita dalla ripetizione della creazione e dalla rigenerazione periodica del tempo, nella concezione messianica la storia deve essere sopportata perché ha una funzione escatologica e dà la consapevolezza che un giorno cesserà. Una funzione escatologica vuol dire che riguarda la fine dei tempi. È un po' il discorso che mi stavo facendo poco fa. cioè l'irreversibilità degli avvenimenti storici è compensata proprio dal limite della storia lineare. La storia lineare ha come caratteristica proprio come dicevo un inizio della storia che prima di quello è un tempo indefinito così come la fine della storia della Gerusalemme celeste. si entra in fondo si recupera in centro di unire la dimensione dell'eternità che è atemporale e quindi ecco che la storia in questo caso viene sopportata proprio nella speranza del futuro nelle protezioni di questa Gerusalemme celeste del futuro. Per questo Elia decidisce nella concezione messianica la storia deve essere sopportata poiché è una funzione escatologica quindi perché si sa che un giorno finirà questa storia alla fine dei tempi e dalla consapevolezza che un giorno cesserà che è quello che gli ho appena detto. Così la storia è abolita non dalla coscienza di vivere in un eterno presente come nel caso dell'istante atemporale della rivelazione degli archetipi né per mezzo di un rituale periodicamente ripetuto come nel caso dei riti dell'inizio dell'anno ma viene abolita nel futuro. La rigenerazione periodica della creazione è sostituita da una rigenerazione unica che avverrà in un tempo futuro ma anche la volontà di porre fine alla storia in un modo definitivo è ancora un atteggiamento antistorico proprio come le altre concezioni tradizionali. Quindi qui Vircea Liade sottolinea questo aspetto antistorico che è comune sia alla concezione ciclica del tempo sia alla concezione lineare perché nella concezione ciclica questa ripetizione dei riti ad esempio dell'inizio dell'anno e così via e questo tentativo di rinnovare gli archetipi di origine è un modo di estranearsi appunto dalla morte che è la dimensione del divenire e quindi di allontanarsi dalla storica dalla storia che non è altro che uno sviluppo del tempo la storia ha bisogno dello scorrere del tempo per divanarsi e così come nella società arcaica c'erano i rituali di inizio dell'anno tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti e Eliade anche questa volta sottolinea l'atteggiamento antistorico che continua nella dimensione giudaica e cristiana proprio perché si crede a una fine della storia perché la Gerusalemme celeste rappresenterà la fine della storia e del divenire e quindi ecco l'atteggiamento antistorico che si ripropone il significato acquisito dalla storia nel quadro delle diverse civiltà arcaiche non ci è mai rivelato così chiaramente come nella teoria del grande tempo cioè dei grandi cicli cosmici che abbiamo accennato in un precedente video dobbiamo riparlarne poiché proprio in questo caso si precisano per la prima volta due orientamenti distinti l'uno tradizionale presentito senza mai essere stato formulato con chiarezza in tutte le culture cosiddette primitive quello del tempo ciclico che si rigenera periodicamente ad infinitum l'altro cosiddetto molerno del tempo finito frammento tra due infiniti atemporali quasi ovunque queste teorie del grande tempo si ritrovano in unione al mito delle età successive poiché l'età del loro si trova sempre all'inizio dei cicli e qui fa riferimento alla teoria dei quattro yuga come dicono in oriente delle quattro età come questa teoria che è la midesima dell'oriente però è stata conosciuta qui in occidente e quindi il senso che si dava alla storia è legato a quella del grande tempo adesso ne parleremo questi cicli storici di quattro ere che si ripetono all'infinito e quindi il tempo ciclico che si genera periodicamente abbiamo visto che era tipico delle società arcaiche l'altro che qui definisce come moderno perché i monoteismi sono più recenti rispetto a quelle che erano le concezioni arcaiche ecco lì adeciparlo di un tempo finito frammento tra due infiniti temporali che vuol dire vuol dire lo scorrere della storia perché il tempo inizia con la caduta di Adamo ed Eva e finisce con il ritorno di Gesù e quindi la Gerusalemme celeste e cosa c'era prima di Adamo ed Eva c'era un infinito atemporale c'era una dimensione senza tempo e così è un altro infinito atemporale è quello che avviene dopo la Gerusalemme celeste dopo il ritorno di Cristo quindi l'Eden il paradiso che si rinnova e nuovamente ci si ritrova in un infinito atemporale quindi un infinito atemporale era quello prima della cioè quello dell'inizio della storia della caduta di Adamo ed Eva e un infinito atemporale è quello dopo la fine della storia e per questo che ci dice Eliade che la storia in senso lineare è concepita come frammento tra questi due infiniti atemporali nelle due dottrine quella del tempo ciclico infinito e quella del tempo lineare limitato questa età dell'oro è ripetibile per un'infinità di volte nella concezione ciclica una sola volta nella lineare perché l'età dell'oro qual è? nella concezione ciclica è l'inizio proprio dei quattro yuga noi siamo il cali yuga è l'ultima età ma l'età dell'oro è la prima età che si ripete nella concezione ciclica all'infinito è come una ruota che gira infatti qui vedete la ruota tibetana come è rappresentata lo sviluppo temporale nel tibet anche e invece nella concezione lineare questa ritorno all'età dell'oro si ripete una sola volta perché perché per i cristiani quando finisce il tempo della storia cioè il ritorno del Cristo si ritorna al paradiso terrestre originario in realtà si ritorna all'inizio quindi al prima di tempi a quell'Eden in cui dimoravano Adamo ed Eva quindi questo accade una volta sola questo ritorno dopo il giudizio universale e la resurrezione dei morti per questo nell'età la concezione orientale si ripete infinite volte ecco il concetto anche delle reincarnazioni che si installa su questa concezione invece nel cristianesimo nel giudaismo no dopo il ritorno di Cristo si ritorna all'età dell'oro si ritorna all'Eden al paradiso del resto ma una volta sola accade questo noi si ripete all'infinito non ricordiamo questi fatti per il loro interesse intrinseco che è senza dubbio considerevole ma per chiarire il significato della storia dal punto di vista di ciascuna dottrina l'unità di misura del ciclo più piccolo è lo yuga o età uno yuga è preceduto e seguito da un aurora e da un crepuscolo un ciclo completo di ma yuga o ma yuga si compone di quattro età di durata in uguale con l'età più lunga all'inizio e la più corta alla fine questa è la concezione appunto ciclica la concezione lineare scusate la concezione circolare del tempo che è divisa in quattro parti dette quattro yuga tutta la ruota tutto il cerchio composto dalle quattro parti è detto ma yuga ma vuol dire grande yuga vuol dire età quindi ma yuga vuol dire la grande età la grande età si compone di quattro yuga cioè quattro età di durata in uguale perché l'età dell'oro è la è la più lunga e poi man mano che si va verso la fine del del cerchio c'è il kalyuga che è l'età più corta dove anche gli uomini vivono di meno secondo la tradizione vivono meno anni alle diminuzioni progressive della durata di ogni nuovo yuga corrisponde sul piano umano una diminuzione della durata della vita accompagnata da un rilassamento dei costumi e da un declino dell'intelligenza che conduce a un degrado dal punto di vista spirituale quello che vi stavo dicendo nella quarta era del kalyuga che è quello che stiamo vivendo e nella tradizione greca dopo lo vedremo nella tradizione nostra occidentale corrisponde all'età del ferro c'è questo degrado della spiritualità tant'è vero che vedete queste teorie per esempio la teoria del gender che è una teoria aberrante per cui non si dà rilevanza se un uomo nasce con il pisellino o una donna nasce con la vagina tutte queste confusioni perfino dal punto di vista grossolano dal punto di vista del corpo materiale non potevano che avvenire nel kalyuga che è l'epoca proprio del degrado e della confusione questa decadenza continua su tutti i piani biologico intellettuale etico e sociale a questa più particolarmente rilievo nei testi puranici quindi nepurana che sono dei testi indiani troviamo la descrizione anche di questo kalyuga e se poi andrete a leggere vedrete che è impressionante perché descrive proprio quello che sta accadendo adesso dove avviene questa decadenza dal punto di vista biologico perché si vive di meno anche rispetto alle età precedenti e quindi dal punto di vista intellettuale lo vediamo i nostri intellettuali che incoraggiano questo degrado etico e sociale è il degrado etico che quando viene considerata arte una donna che a teatro si infila un crucifisso nel sedere o il famoso Gesù immerso nella pipì no? e questo è arte è degrado sociale tipico del crepuscolo perché prima non l'ho commentato ma c'era scritto che ogni epoca poi ha un aurore e un crepuscolo no? cioè un inizio e una fine che hanno sempre determinate caratteristiche a seconda delle ere ma tutte le ere terminano con un periodo di tenebre che è tipico di quella determinata era eh? quindi c'è una diversità ad esempio dal periodo finale quindi il periodo di tenebre della prima era da quella dell'ultima era cioè in pratica quando finisce l'età dell'oro quel tipo di degrado è molto diverso dal tipo di degrado di quando finisce l'età del ferro a misura che ci si avvicina alla fine del ciclo cioè alla fine del quarto e ultimo yuga le tenebre si infittiscono il khaliuga quello nel quale ci troviamo attualmente è considerato proprio l'età delle tenebre il ciclo completo termina con una dissoluzione un pralaya che si ripete in un modo più radicale detto maapralaya la grande dissoluzione queste teorie sono caratterizzate da infiniti calcoli che riguardano il tempo la durata eccetera ma di questa valanga di cifre è necessario ricordare soltanto il carattere ciclico del tempo cosmico perché io vi sconsiglio di mettervi lì a fare dei calcoli i calcoli ne hanno fatti e anche Genome Genome ricordiamoci che era un matematico che insegnava matematica così era anche molto esperto in matematica ad esempio Komaraswami che collaborò con Genome fecero anche questi calcoli sui yuga ma sono cose a mio parere non vale la pena mettersi lì ad entrarsi in questi calcoli loro l'hanno fatto ci si può rifare eventualmente i loro studi ma vi sconsiglio vivamente di entrare nei meandri di questi complessissime date anche perché spesso quando scrivevano questi numeri nell'antichità molti di questi numeri erano anche simbolici quindi si entra in un meandro in un groviglio di simboli calcoli numeri complicatissimo quello interessante sono le caratteristiche generali delle varie erie e quelle sono molto interessanti invece da vedere che riguardano appunto il tempo la durata e determinati aspetti caratteristici come dicevo nel cali yuga il degrado dal punto di vista spirituale il materialismo che avanza questo è scritto in eburana che i sacerdoti vengono disprezzati e le stesse classi sacerdotali perdono l'efficacia anche i rituali e tutto quanto quindi i sacerdoti cominciano a essere disprezzati dal popolo e poi la caratteristica dell'ultimo yuga quello che stiamo vivendo è l'era del mercante chiamata anche perché perché la casta dei mercanti è quella che dominerà il pianeta ogni era ha una casta dominante e ovviamente al tempo di purana non si conosceva il vocabolo capitalismo ma noi stiamo vivendo l'era del mercante che è esattamente quella del capitalismo lo vediamo nella nostra società tutto a valore nella misura in cui è monetizzabile infatti assistiamo alla ripetizione infinita del medesimo fenomeno ossia la creazione distruzione recreazione presentito in ogni yuga dunque un aurora e un crepuscolo è quello che vi dicevo prima ognuna di queste aree ovviamente ha un'aurora che è il suo inizio uno sviluppo che ha determinato caratteristiche e un crepuscolo che è la sua fine esattamente come le stagioni le stagioni ripetono in piccolo nella natura la ciclicità del del ma yuga di tutto l'insieme del cerchio temporale da questo ciclo senza inizio né fine l'uomo può staccarsi solamente con un atto di libertà spirituale poiché tutte le soluzioni soteriologiche ossia relative alla salvezza hindù si riducono alla liberazione preliminare dall'illusione cosmica e alla libertà spirituale le due grandi eterodossie il buddismo e il jainismo accettano nelle sue grandi linee la stessa dottrina del tempo ciclico e lo paragonano a una ruota con dodici raggi quindi ecco è importante che la salvezza quando parliamo di soteriologia soteriologia significano sono quelle dottrine che ci parlano che hanno un aspetto escatologico in general ossia che escatologico vuol dire che riguarda la fine dei tempi e soteriologico cioè che riguarda la salvezza quindi se diciamo hanno un aspetto soteriologico ed escatologico senza farsi spaventare dalla parola significa che riguarda la salvezza della fine dei tempi in parole semplici e quindi la soluzione soteriologica ed escatologica legata all'induismo è quella della liberazione preliminare dell'illusione cosmica quindi tu puoi uscire fuori dallo yuga che è una l'era del ferro quello che stiamo vivendo l'ultima parte è dove maia il potere dell'illusione è più forte quindi l'identificazione col corpo e il degrado progressivo riguardo alla spiritualità e attraverso la meditazione attraverso la liberazione attraverso la penetrazione nel centro seguendo la stella del nord secondo quello che è la terminologia usata generalmente nel decimo d'oro ecco questo è lo strumento per arrivare alla liberazione anche nel kali yuga che ha come tra virgolette difetti come caratteristiche negative questa del degrado spirituale e questa del fatto che l'etica degenererà sempre di più è una grande confusione ci sarà in tutto il mondo e questa era generalmente si conclude con una catastrofe che nel caso nostro potrebbe essere ad esempio una guerra atomica o sconvolgimenti tipo tsunami terremoti cose del genere però questi sono gli svantaggi del Kali Yuga i vantaggi è che libri che prima erano celati nei monasteri vengono diffusi quindi da una parte questo crea i fenomeni di degrado tipo la new age dove molte persone si perdono negli aspetti più superficiali della spiritualità facendo questo minestrone di tutte le tradizioni ma d'altra parte ci sono poche persone che possono avere accesso noi pensiamo entrando in una qualsiasi libreria noi troviamo il Tao Te Ching troviamo la Bhagavad Gita Shankara la Bibbia troviamo tutti i testi sacri e quindi chi ha un cuore sincero con la meditazione poi diventerà anche un cuore puro ha la possibilità di sottrarsi a questa dimensione del divenire particolarmente avvertita nel Kali Yuga dove si rifiuta e si censura perfino la morte vedete anche la plastica facciale tutte queste cose non è un caso che sono state inventate nel Kali Yuga nera dove rifiuta perfino la morte naturale perfino la parola morte è censurata si parla di di partita si è spento se ne è andata però appunto abbiamo la fortuna di avere accesso a tanta saggezza noi del decimo toro abbiamo la fortuna di stare sul decimo toro con un bel sanga e una dimestichezza anche quegli elementi simbolici ma soprattutto camminiamo tutti insieme verso la stella del nord e questa è un'immensa fortuna soprattutto nel Kali Yuga bene amici vi porto nel cuore un caro abbraccio a tutti Marco Cosmi